due amici parlano allora come va con la moglie ma guarda andrebbe bene solo che mi dice che sono infantile che devo crescere perché che fai perché mi piacciono i biscotti della plasmon ma solo per questo ma dai i gusti sono gusti sì lo so ma mi dice che sono rimasto un bambino e che te ne frega se ti piacciono tu continua a mangiarli certo che li mangio mi piacciono e come con il latte nel biberon sono la morte sua ciao